Karl Popper, filosofo inglese del Novecento. Popper propone la falsificabilità come criterio di demarcazione tra sapere scientifico e sapere non scientifico. Alla teoria scientifica non basta, per essere dimostrata vera, il criterio di falsificabilità. Secondo Popper, l'induzione non garantisce la scientificità. Basta infatti un solo caso contrario per smentire un'intera teoria. La teoria scientifica se è falsificabile, ovvero se presenta e si confronta con teorie che la contraddicono. Se resiste a tentativi di falsificazione, la teoria è corroborata. La corroborazione della teoria deve essere pubblica per permettere un controllo intersoggettivo. Più che una logica della scoperta, la logica di Popper è quella del controllo empirico e la continua discussione critica che garantisce la scienza.